Arezzo attende la tre giorni dei sapori da venerdì 11 ottobre a domenica 13, l'edizione dei 15 anni del mercato internazionale è pronta a far fare il giro del mondo ancora una volta a tutti i visitatori. Quest'anno l'offerta è sempre più ampia e vasta, la novità è anche che la nostra offerta, quella dei nostri prodotti locali si potenzia sempre di più, quelli a chilometro zero, quelli dedicati al green e a tutto quello che è l'attenzione adesso all'ecosostenibilità. E un'altra novità è anche l'ordine, il rigore e la polizia che cerchiamo di usare sempre di più nell'organizzazione di questo magnifico giro del mondo, del gusto, delle tradizioni, delle culture diverse che ogni anno si articola sempre di più e che ormai è un successo da 15 anni. Nell'area Eden ed in parte del centro storico saranno 300 gli stand con 170 espositori. Il percorso di oltre 3 chilometri abbraccerà anche piazza Sant'Agostino e piazza San Jacopo, tra le bancarelle del gusto una cittadella dello sport, animazioni per bambini e visite guidate all'anfiteatro romano. La presenza di 35 paesi rappresentati con quasi 200 espositori che vengono da fuori e quasi un centinaio di italiani, molti arretini, sono davvero numeri importanti, numeri importanti che servono a valorizzare una vetrina per questo territorio, per le nostre produzioni, ma ovviamente non solo. Sono anche grandi eventi che ci mettono in evidenza anche in un panorama molto più ampio di quello che è il nostro localismo a cui ovviamente siamo abituati, ma che sicuramente non ci basta e non basta le nostre imprese. La novità importante di quest'anno è che il mercato internazionale sarà plastic free. Abbiamo attenzionato un po' tutto, dai parcheggi alla viabilità, alla presenza del plastic free, un'altra novità di quest'anno, cioè la presenza di bicchieri posate interamente biodegradabili, la presenza forte dei nostri operatori locali, insomma stiamo attenzionando un po' tutti i settori e devo dire che sarà sicuramente un grande mercato senza confini. La fondazione sarà presente con un proprio stand dove pubblicizzeremo sia la fiera antiquaria ma anche l'imminente città del Natale, ma in generale la visita comunque alla città. Questo perché secondo me è un volano che può moltiplicare le presenze in città se ci aiutiamo tra eventi.